Marco, il badminton come sempre è uno degli sport forti, se si possa definire così della festa e lo sport. Alle tue spalle tantissimi bambini che si divertono a provare. Sì, indubbiamente lo sport del badminton è uno sport che esercita un certo appeal sui bambini. Dopo una prima esitazione, appena vedono la racchetta, questo strumento un po' strano, entrano in campo e poi non vogliono più uscire, quindi siamo molto contenti perché vediamo che si divertono e la nostra grande soddisfazione è essere alla festa dello sport a portare la nostra attività in mezzo a loro che è il nostro futuro. Per tutti coloro che volessero incominciare a giocare a badminton, insieme a voi, dove e come vi possono trovare? Ci trovano sicuramente sul nostro sito www.genovabadminton.it Noi giochiamo presso la palestra dell'Istituto Firpo Bonarroti davanti allo stadio di Marassi, dal lato tribune. Gli orari non li possiamo ancora sapere perché dipendono dall'organizzazione scolastica, quindi li sapremo a settembre. Però diciamo che se ci contattano attraverso l'email che trovano sul sito, noi risponderemo dando tutte le indicazioni necessarie.